Se compro un telefonino dual sim da 9,90 euro della Majestic all'Eurospin, ci posso usare una similiad? Procediamo e magari diamo uno sguardo alle incredibili potenzialità di questo concentrato di tecnologie, che alla nonna potrebbero tornare utili. Ecco i vari passaggi, spacchetto e vedo il contenuto, inserisco la sim wind, la similiad e la batteria, provo a chiamare il 155 con la sim win ed il 177 con la similiad, controllo la quantità di memoria interna e della micro sd che ha partizione ridimensionata a circa 200 mega e faccio una rapida carrellata delle funzioni fotocamera, calcolatrice, calendario, sveglia ecc. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.